Una veloce ondata di maltempo ha investito il Piacentino. Le precipitazioni erano iniziate nella notte, per poi intensificarsi nella mattinata e nel pomeriggio di oggi, anche con manifestazioni temporalesche. Pioggia particolarmente intensa, mista grandine, è stata registrata nella zona di Ponte Nure e della Val d'Arda, con interventi dei Vigili del Fuoco per alberi e rami caduti a Fiorenzuola e Castella Arquato. Intervento nel pomeriggio anche a Rivalta. Nelle ore serali e notturne la situazione tenderà al miglioramento e per domani sono previste condizioni di instabilità solo nelle prime ore del giorno. L'arrivo delle precipitazioni è stato accolto a braccia aperte da Coldiretti, perché è importante per salvare le semine primaverili e le colture già in campo. Precipitazioni che probabilmente avranno poco da dire sullo stato di siccità che interessa da tempo il bacino del Po e gli indicatori presentati questa mattina dall'autorità distrettuale del Grande Fiume non mostrano miglioramenti a quanto emerso 30 giorni fa. Ma quello che più preoccupa è che i dati più aggiornati risultano anche peggiori se comparati a quelli registrati nello scorso anno. La portata del Po ha registrato valori di media mensili inferiori al minimo storico del periodo 1991-2020 e confrontabili solo con quelle osservate nel 2022, da tutti ricordato come l'anno peggiore sul fronte della siccità. Le condizioni critiche in tutto il bacino mostrano punte estreme di calo, soprattutto a Piacenza, con la portata che al 31 marzo era di 214 metri cubi al secondo, mentre 12 mesi prima era stata di 279 metri cubi. Una situazione definita preoccupante e che va vista non come in emergenza, secondo il segretario generale dell'autorità distrettuale del fiume Po Alessandro Bratti, ma che va affrontata con un orizzonte di medio e lungo periodo come strategia di adattamento al cambiamento climatico più a largo spettro. Rimaniamo in uno stato di criticità media in attesa dell'attività in rigua e sperando che il meteo ci sollevi un po' da determinate situazioni che purtroppo oggi sono presenti sul vaccino.